Mi identifico e parlo volentieri di muri perché un muro può avere due funzioni può separare grazie alla sua altezza ma ci si può anche salire sopra e quindi dall'alto vedere le cose molto meglio percorrendo la cerchia muraria per tutta la sua circonferenza. Nel Medioevo si usavano i muri per separare poi oggi come oggi nel 2016 abbiamo capito, avevamo capito che i muri possono servire anche per passeggiare per vedere meglio le cose dall'alto. Adesso stiamo ricominciando a costruire muri per separare io continuo a pensare che usarli per montarci sopra e per vedere dall'alto se sono presenti abusi edilizi, se sono presenti situazioni belle o brutte, se sono presente cose che non si capiscono dal livello dell'uomo della strada, se c'è un muro c'è sempre qualcosa su cui si può salire per vedere meglio.